Emergono indiscrezioni su quanto starebbe accadendo tra Sofì Codegoni e Alessandro Basciano. Quest'ultimo ha unfollowato la fidanzata. Nelle ultime ore sono circolate voci in merito ad una presunta crisi tra Sofì Codegoni e Alessandro Basciano. A destare sospetti è stato proprio quest'ultimo, che ha tolto il follow sui social alla fidanzata e alla madre di lei, Valeria Pasciuti. Un gesto che spesso e volentieri, ai giorni d'oggi, è interpretabile come sintomo di rapporti non proprio tranquilli tra i diretti interessati. È questo il caso? Al momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. A fare luce su quanto sarebbe accaduto, infatti, ci ha pensato Alessandro Rosica. I due ex GFini, a quanto pare, starebbero attraversando un periodo complicato, momento di grande crisi. Come vi dissi a malincuore non vedo futuro per la coppia anche se c'è stato e c'è sentimento, ma sono troppo diversi e litigarelli, sono state le sue parole in una storia Instagram. Alessandro e Sofì, quindi, nonostante il sentimento, non sarebbero adatti per stare insieme. Come detto, entrambi, almeno per il momento, non hanno rotto il silenzio a riguardo, e rimane da capire se confermeranno o smentiranno quanto riportato da Rosica via social. Non è la prima volta che Rosica lascia filtrare presunti dettagli sul rapporto tra Sofì e Alessandro. Circa due mesi fa, ad esempio, tra i due ex GFini si era presentata una situazione simile, con entrambi che avevano improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram. I fan avevano subito pensato ad una possibile crisi e l'intervento della madre di Sofì sui social non aveva di certo calmato le acque. L'allarme, però, rientrò nel giro di poche ore. Sofì e Alessandro, infatti, si presentarono sorridenti in un video di chi su Instagram, e ripresero a seguirsi.